Ripercorreremo il sentiero che percorse Francesco di Assisi dopo la sua spogliazione, dopo che rifiutando la paternità di Bernardone ha scelto Dio come padre. Un sentiero non solo geografico ma anche interiore. Noi abbiamo chiamato della riconciliazione con quattro temi, quest'anno è il secondo tema, la riconciliazione con Dio e poi il prossimo anno con i fratelli e poi il terzo anno, il quarto anno con la natura in modo da contemplare tutte le realtà uscite dalle mani di Dio, sono buone, belle e da rispettare. Quest'anno al sentiero di Francesco parteciperanno i lupi dell'associazione degli affidatari del lupo italiano APS, associazione di proporzione sociale, che vengono affidati alle persone con scopo civile, cioè di utilità civile. Verranno in pellegrinaggio alcuni esemplari, sia il primo che il due e anche il tre logicamente. Poi nel pomeriggio del tre, all'arrivo alla chiesa della Vittorina, un gruppo allestirà un campo dove potrete vedere come vengono addestrati e come lavorano i lupi che vengono utilizzati nella ricerca. Ricerca di persone scomparse in superficie, in macerie, in fango, sotto valanghe, slavine e faranno degli esercizi che vi dimostreranno come lavorano per essere addestrati a qualunque situazione di rischio e di pericolo che può capitare durante i terremoti e le frane e le alluvioni. Qui abbiamo il bastone del pellegrino, il bastone del pellegrino che viene dato dal vescovo all'inizio del pellegrinaggio ad un politico. Abbiamo diversi politici presenti e poi i politici se lo passano l'un con l'altro. Speriamo che i politici poi ne facciano buon uso di questo bastone del pellegrino e non del comando, come si suol dire. L'organizzazione è un'organizzazione che cerca di venire incontro a tutti i pellegrini, a cominciare da un pasto che verrà dato al sacco oppure un soggiorno in un ostello, in un agriturismo per chi si vuole fermare durante la notte che non è delle parti dell'Umbria molto vicino al percorso.